Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori, buon inizio settimana. Questa è la settimana di Natale, quindi ci apprestiamo a vivere questi ultimi giorni frenetici anche per chi sta organizzando una lista di piccoli regali da fare o comunque sta organizzando il pranzo, per esempio un pranzo in famiglia, quindi già si comincia a ragionare su questa cosa, molto bella tra l'altro. Allora cominciamo con la nostra segna stampa Occhio e Giornali che come tutte le mattine va in onda in diretta alle 7.30 e poi in replica fino alle 8.30, alle 9.10, alle 13.30. Cominciamo dal santo del giorno, vediamo subito il santo di oggi, Beato Urbano V, è stato Papa. Il sole è sorto alle 7.37, tramonterà alle 16.33. Se uscite di casa preparatevi perché chi ha la macchina fuori dovrà fare i conti con la gelata di questa notte, con la nebbia ghiacciata, infatti siamo ancora intorno allo zero e insomma continua a fare freddo, attenzione strade al fondo stradale che può essere alcuni tratti ghiacciato. Oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso con nuvole stratificate medio-alte in aumento dal pomeriggio. Sempre dal tardo pomeriggio avremo deboli piovaschi nelle zone dell'entroterra in graduale estensione poi al resto del territorio durante la serata. Le temperature sono senza variazioni di rilievo, i venti sudorientali di brezza leggera. Lungo la costa invece saranno moderati con rinforzi. Per la giornata di domani martedì la protezione civile delle Marche, vedete, prevede un cielo nuvoloso con deboli diffuse precipitazioni, occasionalmente a carattere di rovescio. Le temperature sono in aumento, i venti sudorientali e moderati lungo la costa con rinforzi fino a vento fresco. Per i prossimi giorni avremo condizioni in generale miglioramento per il resto della settimana. Cominciamo dai babbi natali del resto del Carlino. In prima pagina corrono per la bontà, un'iniziativa solidale, una maria bianca e rossa di 700 runner, corridori da San Giorgio di Pesero fino a San Costanzo. Poi lo vedremo tra un attimo la tragedia di un cacciatore che è stato assalito da un cinghiale ed è morto. Si è arrampicato addirittura per evitare questo cinghiale, ma non c'è stato nulla da fare. È stata ricostruita così la tragedia di Cagli ad azzannarlo, un grosso esemplare maschio. Allora entriamo nelle pagine interne. Subito questa tragedia di Cagli con l'ungulato che ha assalito il cacciatore non è riuscito ad evitarlo. Parla il caposquadra Elvio Calagretti che dice è una tragedia questa che toglie il fiato. Il cinghiale c'era sfuggito poco prima, stava allontanandosi, portandosi dietro i cani. Per questo Rolando, che era il più vicino alle macchine, ha detto che andava ad aspettarlo per ucciderlo. A raccontare gli ultimi momenti di vita di questo 62enne, Rolando Caimi, cacciatore di Pianello di Cagli, è il caposquadra che dice sono io che ho ritrovato Rolando nel bosco steso a testa in giù. L'esperto parla di selezionatori professionisti contro la proliferazione, contro questo aumento smisurato di questi cinghiali. Era steso, sempre il compagno che racconta, era steso a testa in giù. Io sono rimasto da alcuni metri dal corpo, non avevo il coraggio di avvicinarmi, stringeva quel ramo che poteva essere la salvezza. Non dimenticherò mai quei momenti. Questa è la pagina di Pesaro primo piano. Poi sempre nella pagina di Pesaro del resto del carlino si parla di metà mandato del sindaco Matteo Ricci. Smoghe sicurezza, i fallimenti di Ricci. Parlano i Cinque Stelle che hanno preparato un report di metà mandato e che poi coincide con la fine dell'anno ordinanze disattese. Dicono i grillini, il sindaco mentitore seriale non ci hanno dato il modo di contribuire, respinta ogni nostra proposta, dice Fabrizio Pazzaglia. Sotto provincia oggi i nomi della lista, bandiera bianca del centro-destra. Entro le 12 di questa mattina vanno consegnati i nomi dei candidati del Consiglio Provinciale. Solo allora ci sarà la conferma, ma pare ormai certo che verrà presentata una sola lista, il che vuol dire che i suoi 12 candidati saranno i futuri 12 consiglieri provinciali. L'8 gennaio poi si vota. La Notte Rosa fa bene solo alla Romagna. Varotti si schiera con la città di Fano e dice bisogna creare eventi tutti nostri e non accodarci. Siamo i parenti poveri ammessi alla serata ricca della Romagna, la serata ricca romagnola, questa politica non ha senso e così loro ci ridono dietro. Non ha tutti i torti a Merigo Varotti che dice e che dunque fa un plauso alla città di Fano che ha deciso di rinunciare alla Notte Rosa. Furti in serie, ladri passano anche dagli alberi per entrare in casa. In serata una donna di 54 anni precipita da un palazzo di Viale Venezia. Probabilmente si tratta di un suicidio, questa 54enne che viveva sola ed era separata. Questa è la cronaca da Pesaro. Andiamo adesso invece sulla pagina di Fano e Urbino. L'inferno di Marsinella non si dimentica. Fano oggi giornata per rievocare la tragedia che colpì molti nostri connazionali. L'allerta meningite invece dalla pagina nazionale del quotidiano Il Resto del Carlino. L'allerta meningite diceva non si ferma. Marche Sicilia gravi, sono due giovani a Firenze. Firenze reagisce alle cure di un bimbo. Regisce il bimbo di 4 anni colpito dal tipo C, mentre nelle Marche c'è un problema nel Fermano. È scattata la profilassi per medici e familiari. Si tratta di un 35enne di Monte Rubbiano in provincia di Fermo ricoverato al Murri in coma farmacologico. Il giovane ha iniziato ad accusare forti mal di testa e poi febbre molto alta fino a quando il dolore del capo è diventato lancinante ed è sopraggiunto lo stato confusionale. Questi i sintomi. Adesso apriamo invece il Corriere Adriatico per Rossini. Una festa che durerà tre anni. Celebrazione il Via a febbraio. Gli eventi previsti fino al 2019, ma la pagina, la fotografia è per lo sport e in particolare il basket, la VL strepitosa. Caserta è un trionfo. Johnson incontentabile. Una impresa davvero incredibile, quella dei pesaresi. Mentre il Fano pareggia, la Vis continua a vincere. anno d'oro dunque per la Vispesaro che continua a macinare punti. Rossini, dicevamo, sarà un crescendo, un crescendo con un cartellone lungo tre anni. Ormai definito il progetto delle celebrazioni si comincia a febbraio e durerà fino al 2019. Non solo il centocinquantesimo della morte. Ci sono anche gli anniversari di alcune tra le principali opere del grande maestro e compositore. Mentre dalla pagina 4 leggiamo che Lucia Annibali è andata al compleanno del Papa, Papa Francesco, l'avvocatessa alle celebrazioni che si sono tenute in Vaticano, ha letto. C'era anche Lucia al concerto evento in Vaticano avrai di Claudio Baglioni dedicato a Papa Francesco per i suoi 80 anni e alla raccolta di fondi anche per i bambini terremotati. E a proposito del concerto avrai di Baglioni, vi ricordo, e questa è una grande, se volete, una grande esclusiva anche per noi di Fano TV che lo trasmetteremo questa sera alle 22.05. quindi non perdetevelo. Qui sul canale 17, il canale che tra poco diventerà regionale e che questa sera vi regalerà questo grande concerto di Claudio Baglioni. Avrai alle 22.05. Andiamo avanti con la rassegna. Primario a Pesero. Eccolo qua, il primario ve l'abbiamo presentato la scorsa settimana. Si tratta di Alberto Patriti che viene dall'ospedale San Matteo degli Infermi. e che cosa succede? Mentre qua a Pesero la minoranza aveva attaccato l'amministrazione comunale per l'addio al professore Costantino Zingheretti, l'addio a Marche Nord, a Spoleto invece, il sindaco del centrodestra oggi deve difendersi dalle bordate del PD per essersi lasciato sfuggire Alberto Patriti che ha 43 anni e dirigerà chirurgia Marche Nord. Viene da Spoleto appunto e quindi a Spoleto vivono quello che noi abbiamo vissuto qualche settimana fa quando appunto ci fu l'addio di Zingheretti. Intanto il sindaco Ricci ha annunciato la seduta monotematica sui temi, sui nodi dell'ospedale. Abusive a Cattoni, ancora politica. L'opposizione attacca il sindaco Ricci dopo il bilancio di metà mandato e i riferimenti ai pesaresi da multare. Il forzista Bettini pensa ad allontanare i parcheggiatori mentre Crescentini dice la sconfitta al referendum ancora brucia al sindaco. Mentre Andreolli del nuovo centrodestra dice ha dimenticato di citare i fallimenti. Il Movimento 5 Stelle ha un'ossessione, dicono per noi. E poi il dramma, dicevamo a Pesaro, di questa donna che è precipitata dal terrazzo. Probabilmente a Pesaro si tratta di un suicidio. Rolando è morto, il cacciatore di Cagli, senza poter chiedere aiuto. Ha tentato di tamponare le ferite del cinghiale. Adesso le indagini sono affidate alla procura di Urbino. Su questo incidente di caccia è stata disposta l'autopsia e gli amici che hanno partecipato alla battuta dicono siamo tutti sconvolti. Da Urbino, Ersu riforma da bloccare la regione. Torni indietro l'appello del sindaco Gambini dopo che con il rettore ha incontrato Ceriscioli. Poi anche qui vedete unico listone per le elezioni in provincia. troppe divisioni dentro Forza Italia, niente alternativa. Da Fano, Agrario clonato e Itis assente. Occasioni perse per il territorio. L'ex vicepreside Giorgi va all'attacco dell'accorpamento del Battisti al Polo numero 3. Lo vedete Giorgi in questa immagine. Se non si apre un tecnico statale non si fanno gli interessi dei nostri giovani. E poi vi ricordiamo che oggi arriva a Fano il ministro del lavoro Giuliano Poletti, ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'incontro è stato organizzato dal Partito Democratico di Fano alle 13.15 con un pranzo al pesce azzurro. Poletti è ministro dal 2014, prima nel governo Renzi e poi nel governo attuale, quello Gentiloni. Dal 2002 al 2014 è stato presidente nazionale della Lega Coop. Anche qui la notizia di Varotti, direttore di Confcommercio, che plaude all'iniziativa e alla decisione del Comune di Fano di lasciare la Notte Rosa. Ha fatto bene Fano ad uscirne. Un turista che voglia partecipare alla Kermesse va certamente in Romagna, non a Pesaro o a Fano, ha detto ancora Varotti. E inoltre la Regione Marche ha lanciato l'idea della Notte dei Desideri, tutta marchigiana, per promuovere e da promuovere sui mercati turistici. L'ultima pagina, sempre quella di Fano del Corriere. Caro sindaco, completa la pista ciclabile, c'è posta per Massimo Seri. Oltre 200 bambini in via Garibaldi hanno consegnato le letterine con un sogno per migliorare la città. Per molti è, diciamo, questa pista ciclabile la più desiderata. Molti chiedono a Reverdi, un albergo diverso in piazza. Insomma, è successo per la tombola vivente a Sant'Orso. Insomma, questa è la notizia che campeggia sulla seconda pagina di Fano del Corriere Adriatico. Direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la nostra segna stampa, ci ritroveremo questa sera alle 20.30 con il telegiornale. Vi ricordo ancora che c'è questo concorso dedicato ai vostri presepi, quindi mandateci ancora, c'è tempo fino alla fine di questa settimana, per mandarci le vostre fotografie. Scattate due o tre fotografie al vostro presepe. E naturalmente in una di queste è importante che ci siate anche voi, oppure mandateci un video, non più di 30 secondi. E lo potete mandare a presepi.chiocciola.fanotv.it Non attraverso i social network, non attraverso WhatsApp, ma solo utilizzando la posta elettronica. Presepi.fanotv.it Poi vi ricordo stasera alle 22.05 il concerto avrai di Claudio Baglioni in esclusiva qui su Fano TV. Grazie per averci seguito. Buona giornata.